Un cordiale buongiorno dalla redazione di Moversi in Toscana Info e in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale, per il momento si segnala solamente il personale su strada in Fipilì tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze a causa di lavori. Sulla statale 73 Senese Aretina si segnala la chiusura di una corsia a causa di lavori tra Leville e Arezzo Est in direzione Monte Pescali. Uno sguardo al traffico aereo e il volo Mistraler diretto da Firenze a Cagliari con partenza prevista alle 15.30 è stato cancellato. Chiudiamo con i treni, l'Intercity 35388 diretto da Roma Termini a Trieste viaggia con 36 minuti di ritardo, ferma a Firenze di Fredi alle 14.08. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!